Cari amici ben ritrovati, continuiamo ad essere protetti dall'alta pressione padrona indisturbata dell'aria mediterranea. Una debole perturbazione però in agguato sull'arco alpino, ma la situazione climatica fino almeno a giovedì risulterà tranquilla. Nel corso di venerdì anche l'anticiclone tenderà ad indebolirsi consentendo l'inserimento di aria umida da ovest con a seguito nuvolaglia e deboli piogge specie sulle regioni tirreniche e tale sarà anche per tutta la giornata di sabato. Un ulteriore fronte freddo nel contempo si avvicinerà alle Alpi con precipitazioni a partire dalla Valle d'Aosta e dal Piemonte. Entro domenica il fronte freddo sfonderà al sud delle Alpi ma senza grandi effetti salvo il rinforzo del vento da nord e la neve sui settori alpini. Il tempo invece peggiorerà al centro-sud con rovesci sparsi e temporali e sostanziale calo termico, conseguenza di un ulteriore ingresso di aria fredda che porterà la neve fino a quote basse anche a ridosso dei rilievi di Marche ed Abruzzo. Continueremo comunque a parlarne nei prossimi giorni. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuvolosità al nord ed al centro, nubi basse specie sulle regioni tirreniche mentre per il resto tempo soleggiato. Bel tempo anche al sud con clima ancora molto mite per il periodo. Tempo bello e mite anche sulla nostra provincia con solo qualche nube di passaggio. Le temperature si porteranno ai 19 gradi diurni e 14 nella notte. Venti deboli soffieranno da nord-nord-est e da nord nella sera con il mare nello stretto di Messina poco mosso. Sul versante tirrenico nubi di passaggio. Le temperature si porteranno ai 19 gradi diurni e 13 nella notte. Ed i venti deboli soffieranno da nord-nord-est con il mar tirreno poco mosso. Sul versante ionico giornata serena è soleggiata con temperature comprese tra 21 e 11 gradi. Venti deboli soffieranno da sud-sud-est e da nord-ovest nella sera con il marionio poco mosso. Nella giornata di mercoledì 18 novembre nebbia al nord ed al centro ma in dissolvimento. Mentre al sud salvo qualche nube su Campania e Calabria ma solo al marlino e sul messinese in serata il tempo si presenta complessivamente buono e mite con temperature prossime ai 20 gradi sul Palermitano seguito da Bari e Napoli. Sulla nostra provincia nubi di passaggio con temperature comprese tra 18 e 15 gradi. I venti di debole intensità soffieranno da nord con mari poco mossi. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani.